Ciao cavaliere, bentornato su Merlin, io sono Giuliano e questa è Camelot, e mai il benvenuto è stato più azzeccato di così. Il motivo è semplice, oggi si parla di Pendragon nella sua sesta incarnazione, quindi siediti alla tavola rotonda perché c'è un sacco da dire. Pendragon, il gioco che ha ispirato il nome a questa associazione. Pendragon, il gioco che più mi rappresenta e che ho giocato per più tempo in assoluto, e che insieme a Vampiri la Masquerade sono stati e sono tuttora i miei giochi preferiti. Bando alle ciance però, perché questo starter set ha davvero un sacco di roba e voglio raccontarvi tutto a partire dalla scatola. Sì, una scatola incredibilmente resistente, spessa, per nulla economica, che regala un touch and feel molto buono e da amante delle scatole sono davvero sorpreso, perché le produzioni americane sono sempre molto deludenti sotto questo aspetto. Inutile parlarvi della scatola di carta velina dell'edizione della leggenda dei Cinque Anelli. Il contenuto è la seconda sorpresa che si riceve. Qualità elevata con tre spillati, quattro appendici, otto schede e alcuni fogli da ritagliare per avere delle carte da sfruttare durante il gioco. Ah sì, dati, un di venti e cinque di sei. In pratica è l'equivalente di un manuale di gioco. Nonostante siano degli spillati, la qualità generale della carta utilizzata e la stampa è davvero buona, restituendo al giocatore tutta la qualità premium su cui Chaosium ha puntato. In termini di esposizione, il gioco si presenta davvero molto bene, molto ben leggibile, tenendo un profilo linguistico moderno, pur parlando del ciclo arturiano, che chiaramente deve avere delle connotazioni cavalleresche. Non è però tutte rose e fiori, questo ci tengo a dirlo, perché da Pendragon mi aspetto sempre il massimo, e voglio che sia sempre al massimo. Là dove i PDF non presentano problemi di sorta e sono anche facilmente aggiornabili, il contenuto fisico presenta diversi typo ed alcuni errori che minano la qualità del contenuto. Per farvi degli esempi pratici, ci sono degli errori sulle schede, qualcosa nello spillato del regolamento e soprattutto nelle avventure. Niente di davvero eclatante e non risolvibile grazie alla versione elettronica, ma resta comunque fastidioso. I tre spillati sono una bella ventata di possibilità. Il primo è la solo adventure, ovvero un racconto a vivi come abbiamo già visto in Rivers of London, che aiuta il lettore a immergersi nei temi arturiani e ad avere una prima infarinatura, soprattutto delle regole. Il secondo sono le regole vere e proprie, di cui vi parlo più avanti. E il terzo è il libro delle avventure, che vi racconterò un pochino, senza però rovinarvi la sorpresa, anche questo, più avanti nell'ambientazione. Il libro delle regole, il secondo tra gli spillati da leggere e quattro appendici, sono ciò che serve per giocare e, partendo proprio dalle cose basilari, ci tengo a dirvi che la meccanica di base non è cambiata, minimamente fin dalla sua prima edizione. Tutti i conflitti si risolvono semplicemente tirando un D20 e il risultato deve essere inferiore al valore del numero bersaglio. L'abilità, la passione, il tratto e così via. E più il risultato è vicino a quel numero, meglio è, soprattutto per il combattimento. Tutto davvero semplice ed immediato e funziona così dal 1985. Cosa è cambiato tra le edizioni sono le regole di contorno. Partiamo dalla caratteristica più importante di Pendragon, ovvero i tratti e le passioni. Ora sono tutte maggiormente rifinite, più dettagliate e si dividono in quattro grosse categorie. Fedeltà, fervore, adorazione e civiltà. Queste passioni ora interagiscono molto di più tra loro ed entrano molto di più in gioco rispetto a quanto avveniva prima, soprattutto per l'ampiezza che si ha. Come funzionano? Semplice. Come tutto il resto, tiri il D20 e devi stare al di sotto del numero bersaglio. Se riuscite nella prova in funzione e come, sarete ispirati da quella specifica passione. Ne seguirete i dettami e soprattutto nei conflitti contro altri avrete maggiori possibilità di riuscita. Infatti, come regola, potete ottenere bonus che vanno da più 5 a più 20. Onore e gloria sono altri due elementi che contraddistinguono Pendragon. I due tratti indicano come è conosciuto il vostro personaggio. Come sono state le sue azioni? Quali sono i tipi di dicerie che girano intorno al suo nome e alle sue gesta? Tanto più sono alte, tanto più è integerimo, importante, conosciuto. La gloria indica quanto è importante il suo nome, quanto è conosciuto lui e la sua famiglia eventualmente. Sempre che ne abbia una. E così via. Sono valori che cambiano in funzione delle gesta e delle azioni che perpetra. Onore, dall'altra parte, è l'unico dei due tratti che ha un numero doppio che indica soprattutto come si presenta in pubblico e come è realmente nel privato. I due valori possono essere diversi perché chiaramente un cavaliere può agire contro i dettami che persegue, ma senza testimoni lui o lei farà i conti solo con la propria coscienza. In termini di gioco, se qualcuno agisce contro l'onore del personaggio, allora userà il valore di onore pubblico. Invece, se è il cavaliere a dover dimostrare il proprio onore, dovrà fare i conti anche con la sua coscienza, usando il suo valore privato. Il combattimento è un elemento nuovo in Pendragon. Ad oggi è sufficiente vedere il valore di abilità con le armi, una mano, due mani e così via, per sferrare un colpo con la spada, la mazza, l'ascia e ogni altro genere di arma compatibile. Prima no, ed oggi è meglio così. Un combattimento si svolge tirando sempre sulla propria abilità e se il valore è inferiore o uguale, allora si prosegue a confrontare questo numero con quello che ha tirato l'avversario. Se quello del giocatore è superiore ed ha colpito, allora sfererà i suoi danni. I conflitti bellici sono tendenzialmente mortali fin dal primo colpo e più raramente superano il terzo. Per chiudere la carrellata di regole che fanno di Pendragon quello che è, posso parlarvi dei tratti caratteriali, ovvero del modo con cui il personaggio approccia ogni singola situazione. Ogni personaggio ne ha 26, suddivisi tra caratteristiche positive e caratteristiche negative. E sono l'una, chiaramente, contrapposta all'altra. Castità e lussuria, crepenza e vendicativo, valoroso e codardo e via dicendo. Ogni volta che dovrete agire vi porrete la domanda sul come lo farete ed agirete di conseguenza badando bene a quali tratti sono predominanti rispetto ad altri e contro i quali non andrete mai. Potrei stare qui circa due giorni a raccontarvi del ciclo arturiano, dall'ascesa di Uther Pendragon fino alla morte di Artù, raccontandovi tutto ciò che c'è nel mezzo, con una quantità di racconti scritti in merito davvero impressionante. Soprattutto perché non è un solo autore ad aver scritto qualcosa su Artù e la sua era, ma molti sono gli autori e dei più disparati ed alcuni di questi e alcuni di quei testi non sono mai nemmeno stati tradotti in altre lingue oltre il francese. Ad ogni buon conto si tratta di un'era mitica di cavalleria in cui i regni della Grande Bratagna, e non solo, affrontavano i barbari del nord, campagne militari in molte regioni del mondo, ma anche tantissime tensioni interne con altri regnanti pronti a muovere il proprio esercito per ingrandire il proprio regno. In tutto questo ci sono anche i miti e le leggende su creature fantastiche e fadate, su armi leggendarie che hanno fatto grandi alcuni cavalieri o che hanno messo a dura prova la loro fede. Magia, tradimenti, religione, onore sono tutti i temi che vengono trattati e presentati. Ecco, quanto sopra viene presentato anche nel libro delle avventure con ben tre scenari diversi che possono entrare singolarmente in una campagna oppure usati sequenzialmente per avere un più corposo arco narrativo anche e con soprattutto la solo adventure. Dal torneo della spada fino alla caccia del cervo argentato arrivando fino alla storia della spada spezzata. Un inizio di avventura per questa sesta edizione incredibile e se tanto mi dà tanto allora sarà un gran bel percorso. Senza ombra di dubbio il materiale per come è presentato è di qualità. Dalla scelta dei materiali alla sua realizzazione grafica alle regole rinnovate e soprattutto rinfrescate Pendragon non è un gioco facile da approcciare non è un classico fantasy con mostri da ammazzare semplicemente entrando magari in una caverna tutte le nuove regole inserite la gestione semplificata generale nonostante una maggiore profondità di alcune scelte tipo le armature tanto per dire sono tutte cose grandiose soprattutto per chi ha vissuto Pendragon fin dalla sua prima edizione come il sottoscritto. Questo è il momento in cui vi saluto e lasciare così Pendragon non è proprio facile. Spero che raccontandovi di questo gioco vi abbia fatto venire la curiosità di provarlo avrei voluto parlarvi molto di più di cosa è un cavaliere delle battaglie campali e delle storie che possono essere create ma il tempo è quello che è spero di avermi trasmesso le emozioni che mi ha lasciato e che ne crei anche a voi durante le vostre disessioni. Posso a questo punto far calare il sipario e far scorrere i titoli di goda.